Un gran gala di solidarietà nella splendida cornice di Villa Signorina del Colano per accogliere fondi a favore dell'AVE. L'associazione di volontari di ematologia dell'azienda ospedaliera Pascale, che porta a casa dei pazienti con patologie onchematologiche, l'attività di assistenza gratuita da parte dei medici ed infermieri del reparto. Ad organizzarla è il Club Lions Portici Miglio d'Oro. Giuseppe Perasole, presidente Lions Portici, spiega come è nata questa iniziativa. I Lions hanno 15 anni di attività e l'attività principale del nostro gruppo è quella di svolgere attività sociali, principalmente sul territorio. Sono tre anni che abbiamo abbinato un service nostro con l'AVE, principalmente per la raccolta di fondi per l'associazione. Il nostro evento è di supporto all'evento principale che fa l'AVE, che considerando in effetti l'andamento del momento, comunque per noi è molto importante. Momenti musicali, coreografie di danze, sfilate, cabaret con ospite ed eccezione il comico Polo Cagliazzo. In un periodo storico in cui la sanità, specialmente in Campania, soffre di gravi carenze strutturali, diventa fondamentale il contributo dei privati, la beneficenza a favore di chi quotidianamente si adopera per migliorare la qualità di vita dei pazienti come quelli ospitati dall'Istituto per i Tumori di Napoli. Lo confermano il dottor Antonello Pinto, primario del reparto di Oncoematologia, e il responsabile del reparto Nando Frigeri. Quando si riesce ad attivare un sistema di assistenza domiciliare, il che è già molto complicato in questa nostra sfortunata regione, ma quello che succede è che a casa del paziente arrivano delle persone che lui non ha mai visto prima. E quindi lo accompagnano nelle fasi più critiche della sua malattia persone con le quali non ha consuetudine, non ha familiarità, non ha condiviso nulla. Attraverso l'Avep invece riusciamo a fare questo piccolo miracolo. Chi fa l'assistenza domiciliare e i nostri pazienti sono gli stessi infermieri che li hanno accuditi e seguiti e curati nel reparto. Le nostre storie di malattia sono molto lunghe, durano anni, e gli stessi medici che li hanno seguiti. Sono molto poco politico dicendo questo. L'Avep è nata perché non abbiamo un supporto da parte delle istituzioni. E solamente di tanta bella gente come quella che sta qui a Seda, in una location veramente bella, ci consente questo con altri eventi, con l'impegno sia lavorativo che anche economico di tanti privati, ci consente di proprio sopperire a quelle che sono delle mancanze istituzionali. Grazie.